Buonasera e benvenuto a Matteo Renzi, sindaco di Firenze. Ciavola, rovola! In futuro chissà. Ricordati che devi morire! Il Partito Democratico si è spaccato in aula su questa mozione di Giacchetti. No, non me l'ha detto Giacchetti. Giacchetti è ritenuto un renziano. Quegli imbecila di Giacchetti. Questa mozione non è passata. Giacchetti è bocciato. Addirittura ha fatto lo sciopero della fame. Giacchetti è uno che non l'ho mai potuto sopportare. Io non sono molto avvezzo agli scioperi della fame. Pensimo ne ho? Il problema del governo Letta sia esattamente questo, di non avere soldi. Un fiorino. Il problema politico è se il governo è in grado, o meglio, se la maggioranza è in grado di fare le cose o no. Bisogna provare. Burocrazia, giustizia, fisco. Provare, 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 provare. Semplifichiamo. E ci vuole la licenza. Se il governo di Enrico Letta va bene, per Renzi e le sue ambizioni politiche va male. Qualsiasi spazio si apra, la gente mi domanda, ma tu che fai? E tu, come finirai? Non rischia di perdere il treno. Treno! Io posso anche saltare un giro. Finirò come il babbo. L'importante è che non salti il paese. A dritto. Poter dire, sono orgoglioso del mio paese. Fratelli d'Italia, l'Italia si destra. E oggi non è così, perché sono orgoglioso degli italiani. Del modicipio, si cinta la testa. Un po' meno dei politici italiani. Che chiama di Roma e di l'aglio. Ovaveli!